è morto il re vive il re questa è la frase con cui voglio iniziare questo video dove voglio darvi quelle che sono le mie considerazioni sulla nuova Lumix Panasonic GH6 GH6 prende tutto il seguito della camera che probabilmente ha cambiato il mercato del video con le mirrorless e stiamo parlando della sorella minore GH5 della sorella minore o per dire il modello passato ora una delle considerazioni da fare molto importanti su questo corpo macchina o meglio la domanda che mi pongo e che in tanti si pongono ma sarà in grado questa camera, questo modello messo in campo da Panasonic andare a replicare il successo o meglio replicare il successo sarà un po' difficile perché il mercato nel frattempo è cambiato ma riuscirà a mantenere quello che si era promesso ossia fare un po' di rivoluzione e creare un prodotto sempre più dedicato ai videomaker evoluti ora la mia risposta è sicuramente sì e la mia risposta si nasconde dietro però un'altra risposta che è quella del mercato di riferimento rispetto al 2017, data in cui nasce la GH5, la GH5 si arriva in un mercato molto differente dove c'è molta più scelta, i sensori dedicati al video si sono ingranditi vediamo che oggi praticamente l'80% delle macchine che vengono utilizzate per far video sono tutte camere full frame ciò significa che si ha delle scelte differenti e in molti si domandano se il micro 4 terzi ha ancora un senso nel settore, nel segmento video e nel mercato odierno beh tutto questo è una risposta alla trova nel mercato di riferimento perché secondo me GH6 è una camera non più dedicata al videomaker evoluto ma è dedicata al filmmaker evoluto c'è una grande distinzione tra il videomaker e il filmmaker il videomaker è colui che per mestiere realizza video un po' di tutti i tipi mentre il filmmaker è colui invece che si prodica la realizzazione di contenuti di intrattenimento un po' come fosse il cinema per intenderci quindi è una camera più dedicata al regista, al direttore della fotografia indipendente perché no al videomaker, attenzione ma secondo me trova il suo modo ideale, il suo mondo ideale nelle lavorazioni, nelle produzioni un pochino più elevate paradossalmente il sensore è più piccolo ma lo affianco tranquillamente a corpi e macchine più impegnativi che vengono usati nel mondo del cinema ho ancora davanti agli occhi una delle cose che più mi torna in mente ed è quella che molto spesso mi capita nel mio settore di ritrovarmi file di corpi e macchina molto costosi come Alexa, come Red abbinati a tutta una serie di shot più piccoli fatti con camere come GH5 ancora oggi nel 2022 mi è capitato quindi vuol dire che quella camera è stata potenzialmente implementata come vera B cam, vera C cam in un mondo molto più complesso e grande proprio grazie a tutti i suoi form factor alle sue potenzialità e all'estrema qualità in molti lamentano il fatto che nel micro 4 terzi non ci sia controllo della profondità di campo perché praticamente si azzera tantissimo dovuto al sensore piccolo, alle lenti più piccole insomma tutta una serie di motivazioni tecniche in realtà questa cosa legata all'estrema qualità porta questo prodotto, questo tipo di prodotti ad avere un senso ancora di più e tutto questo che vi sto raccontando io l'ho riscontrato nella GH6 perché vedo che può registrare in camera dei formati che altre macchine mirrorless prosumer non fanno come per esempio registrare in camera on board un file a 800 megabits come il ProRes e tutto questo ci porta all'unica risposta questa macchina a mio punto di vista è dedicata al filmmaker voluto e come C cam in situazioni e su set sempre più complicati e complessi per esempio è una macchina che vedo in modo fantastico sotto i droni sotto i droni ad oggi riescono a montare anche Red, Alexa quindi camere molto più grandi e ingombranti ma con la stessa qualità, lenti più piccole un'estrema profondità di campo che è quella data dal sensore micro 4 terzi ci permette per esempio di avere riprese di droni aerei dove la profondità di campo non deve esserci deve esserci al contrario e quindi dobbiamo vedere tutto la porta ad essere molto interessante tant'è che su droni di fascia molto alta il sensore montato è proprio un micro 4 terzi e unito alla qualità di questo corpo macchina la gestibilità, tutta una serie di funzioni che sono state integrate secondo me risulterà essere vincente sicuramente la proverò e quando la proverò poi vi darò quelle che sono le mie idee sull'utilizzo concreto di questo corpo macchina per ora mi sono limitato a dirvi il mio punto di vista e come la penso riguardo a questo modello che aspettavamo da parecchio te insomma, sono giunto alla fine di queste mie idee di queste cose che volevo raccontarvi in questo video come al solito, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi se voglio condividere i pensieri con voi quindi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti mi trovate sempre anche su Instagram e io vi ringrazio per la visione ci vediamo prossimamente con un nuovo video e io vi ringrazio per la visione